Tra l'altro in questo libro ci sono un sacco di riferimenti letterari a quella, a me è piaciuto molto anche per questo, per via del fatto che ci trovate Pasolini, ci trovate addirittura Togliatti, c'è anche un lavoro di ricostruzione letteraria storica di un certo livello che non trovate in tutti i libri di mafia scritti anche su l'Emilia Romagna, ci teneva a dire questa cosa perché mi aveva colpito e mi era piaciuto anche molto, tra le cose che vengono dette, oltre a quella della civilizzazione, professore, ritorno da lei, lei definisce l'andrangheta un movimento sociale di conquista e in riferimento al successo che ha avuto a Reggio Emilia parla di spirito di monaco, ora ci vuole spiegare perché è arrivato a definire movimento, secondo lei l'andrangheta è addirittura un movimento sociale di conquista e che cosa intende per spirito di monaco quando parla dell'avanzata dell'andrangheta a Reggio Emilia? Il movimento sociale di conquista perché chiunque si guardi in giro, se non socchiude gli occhi, se non se li fodera come si usa dire, si rende conto che ci troviamo davanti e questo è un limite continuare a considerare soltanto un'organizzazione criminale, non è un'organizzazione criminale soltanto, è un vero movimento sociale di conquista, che ha una forte, esprime una forte spinta alla conquista e alla colonizzazione, è una modalità della conquista o è l'effetto della conquista, ma l'idea è che, è la famosa frase che da dieci anni continuiamo a tirar fuori, che venne intercettata durante l'operazione crimine infinito, del boss più anziano che dice al boss più giovane, tu ricordati una cosa, il mondo si divide in due, ciò che è Calabria è ciò che lo diventerà. Ma lì c'è un'antropologia profondissima, pensiamo che le cose si dicano così, che sia una battuta da bar, gli sta dicendo noi chi siamo? Noi siamo quelli che conquisteranno il mondo e per certi aspetti stanno avendo ragione. Perché? Perché la Germania non si oppone, perché quello che si sta vedendo adesso in Olanda parla per tutti, chi se l'aspettava? Pochi se l'aspettavano. Bisogna sapere che il tale boss internazionale aveva come suo avvocato l'avvocato della regina. Cioè bisogna sapere alcuni dettagli che ti mettono in condizione di capire che qui c'è qualche cosa che ha la forza della conquista. Ed è una... si va in tutta Europa, riescono a trovare spazio perfino tra i narcos messicani, nell'America Latina. Questa capacità di salire da Reggio verso Mantua, verso Cremona, verso il Veneto, è un movimento di conquista. L'organizzazione criminale non fa queste cose. È una tendenza a espandersi progressivamente, paese dopo paese. Perché inizialmente si può immaginare una organizzazione che va a rimorchio dei movimenti migratori in modo parassitario, si piazza di dietro, incomincia appunto a compiere estorsioni nei confronti degli negozianti con paesani e poi... ma qui ormai c'è una logica di espansione sistematica. Sistematica. Questa non è un'organizzazione criminale. Questo è un movimento sociale di conquista che usa il crimine come strumento di conquista, che usa la violenza per realizzare i suoi obiettivi espansivi. Ed è un fenomeno che fa pensare, perché la colonizzazione non è soltanto di costumi, che è già molto importante, ma noi abbiamo ormai in tutto il mondo, ci sono delle comunità che vengono formate da persone che vengono da paesini ad alta intensità mafiosa in altri continenti in cui la popolazione che viene da quei paesi è il doppio di quella del paese originario. Recentemente, nel mio viaggio a Europol, all'Aia, un elemento di discussione la sera era tra investigatori di diversi paesi sul fatto che si è scoperto che in Svizzera ci sono, improvviso l'hanno scoperto, ci sono due villaggi che sono cresciuti a 7-8 mila abitanti soltanto con persone che vengono da un paese della Calabria che ha la metà degli abitanti e sono lì ad arrovellarsi, ma come mai è possibile? È possibile, se l'avessete studiata prima l'avreste capito che è così che funziona, perché Griffith in Australia, paese dell'Australia che è stato l'epicentro della forza dell'Andranchida in Australia e che è stato innervato prevalentemente da gente di Platì, ha il doppio degli abitanti di Platì, suoi di platioti che stanno a Griffith il doppio, non il doppio di abitanti di Griffith, il doppio dei platioti che stanno a Griffith sono il doppio dei platioti che stanno a Platì, ed è così in tutto il mondo e cosa la chiamiamo? Organizzazione criminale questa se ce ne rendiamo conto, incominciamo anche ad attrezzare, ad arginare, a capire come possono essere contrastati, perché non sono invincibili il fatto è che vanno contrastati allora lo spirito di Monaco è un movimento sociale perché che cosa fa questa organizzazione criminale? funzionalizza i suoi obiettivi anche persone che non hanno nulla a che fare con il crimine che per condivisione di un sentimento di compaesanità comunque forniscono i consensi elettorali quando è necessario che forniscono i favori quando è necessario nessuno di loro spacerebbe droga, nessuno di loro ucciderebbe ma sono lì al servizio per una una ragione di condivisione dell'identità fortissima fortissima è un fiume è un fiume che si muove per il mondo che non si sta fermando gli stati d'altra parte non si danno per inteso che hanno questo rischio pericolo con il quale fare i conti meno che mai le nostre università come sappiamo perché nei convegni europei trovate nei programmi le bande dei motociclisti i ladri di biciclette i contrabbandieri di lupi ma non ci sono le grandi organizzazioni criminali non fanno parte della discussione scientifica quindi beneficiano di questa rimozione collettiva che ha qualcosa a che fare con lo spirito di Monaco lo spirito di Monaco è quello dell'Inghilterra e della Francia che di fronte di grandi democrazie europee che di fronte alla minaccia tedesca nei confronti della Polonia invece di intervenire preferiscono non creare un livello di conflittualità troppo alto è quello che fanno le città che sono invase dall'andrangheta e non vogliono alzare i livelli cosa fare Gio Emilia? perché bisogna entrare in conflitto con questi che lavorano insieme alle nostre cooperative che portano i voti anche al nostro partito perché è così ci sono i candidati loro che stanno anzi sono gli unici per i quali non valiscono una certa rappresentanza di cui non si può fare a meno lo spirito di Monaco sta nella paura del conflitto e nel vendere la propria dignità per paura del conflitto cosa hanno fatto le democrazie europee se non dichiarare la loro inferiorità morale rispetto alla Germania nazista morale dal punto di vista della autocoscienza di sé ovviamente non per i valori che venivano professati e hanno messo la Polonia nelle mani dei tedeschi ecco questo è lo spirito di Monaco solo che a un certo punto dopo lo spirito di Monaco c'è stato un Churchill nel Parlamento inglese che ha dichiarato le ragioni della democrazia qui un Churchill non c'è uno che si assuma la responsabilità di dichiarare la guerra all'andrangheta non c'è e questo è un elemento di debolezza le due cose vanno di pari passo quanti spiriti di Monaco hanno agevolato questo movimento sociale di conquista quanta voglia di non vedere perché poi il movimento di conquista questo va spiegato non è un movimento che arrivi dall'alto per cui lo si vede che comincia a occupare subito le posizioni di potere arriva dal basso per cui non lo vedi non ti rendi conto di quello che sta succedendo ti sembra sempre rubina con la quale non vale la pena di confrontarsi che cosa fa Dragone che conquisterà Reggio Emilia fa il bidello e noi nelle nostre storie settentrionali abbiamo già trovato tre di bidelli dicevano tutti i bidelli no ma è soltanto per dire è soltanto per dire che partono dai livelli più bassi che se devono conquistare la sanità lombarda incominciano dagli infermieri e tu non ti stai a rovellare troppo se qualcuno prende la direzione generale della sanità in Lombardia capita capita non sempre capita che qualcuno si ponga dei problemi ma se un infermiere vince un concorso con una raccomandazione ogni guarda di cui poi farà quello che vuole nessuno si pone un problema quindi lo conquistano dal basso e questo rende più difficile sentire il bisogno di difendersi e di intervenire perché sembra sempre di essere sopra le righe ma poi la situazione ti si presenta con un potere che a un certo punto ti guarda in faccia e dice oh guarda che qui comando io basta sentire le intercettazioni telefoniche reggio Emilia nelle nostre mani lì comandiamo noi non è che se le dicono così anche perché per loro queste affermazioni hanno un valore possono millantare ma sicuramente millantano meno di quanto millantiamo noi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti